Perfettamente riusciti i test di esercitazione con cui la protezione civile del Piemonte ha sperimentato nuove tecnologie anti calamità. Droni e sistemi di trasmissione sono stati protagonisti della simulazione di intervento eseguita da Vigliana in Val di Susa. Si tratta del progetto FASTER che vede la collaborazione tra diversi enti di ricerca applicata europei. Il partner selezionato per l'Italia appunto è la protezione civile del Piemonte. L'obiettivo era l'applicazione sul campo di nuovi protocolli operativi e tecnologici per migliorare la risposta del sistema in caso di calamità come ad esempio l'uvione incendi. Qui oggi stiamo lavorando senza internet, cioè è stato simulato una situazione in cui non c'è internet ma ciò nonostante funziona tutto quanto. Diversi i benefici delle tecnologie testate in Val Susa. Da una parte aumentare l'efficacia degli interventi con delle tecnologie che siano facili da usare e da quell'altra aumentare la sicurezza delle persone che fanno gli interventi. Oltre ai droni in grado di mappare il territorio, il personale della protezione civile ha potuto testare una cintura che rileva in tempo reale i parametri vitali e la posizione dei soccorritori.